3, 2, 1, via Salve a tutti Scusa, ho pensato che partivamo insieme Ciao a tutti Ciao Sono venuti sul caro di me Ciao Siamo tutti qui, stiamo tutti quanti girando Avevo già dato un video anche sul suo canale E ovviamente non la conoscete, spero per voi che la conosciate Se non è così, lascia il link al suo canale O qui, o c'è l'info box E mi raccomando passate perché io l'amo Per la sua capacità Della sua proprietà di linguaggio Ogni volta che si vede nel canale di Kevin Per fare qualcosa insieme Venite in andate di complimenti Fatevi come amico Kevin Perché vi non verrà di complimenti Ma non è che ti sei ingrassata Sicura che te stanno bene Ah vabbè se ti faccio da te Siamo qui oggi per fare che cosa esattamente Una challenge che è nuova Cioè neanche non sappiamo come chiamarla Mi inventerò qualcosa Praticamente che cosa noi abbiamo Ma che insomma crebino Abbiamo tre parole ciascuno Che dobbiamo dire E quando io dico una parola Lei deve cantare una frase di una canzone Che cacchiere con la parola Esatto Capito tipo tipo cuscino Lei deve cantare una frase di una canzone dove c'è il cuscino Oddio Oddio c'è No non c'è Ah ma è una prova Eh lo so però è È una prova pure per me Reazione Ok Io sono E visto che lei è la mia ospite Io inizio da lei con la cona Io non sono stata cattiva Ho fatto parole semplici La prima parola è Cane Cane Anche inglesi Guardano Francesi Io amo il mio cane No Ma io non sono il mio cane Hop dog Hop dog I really love Non esiste Che cazzo Dai è la più famosa Dai a reala Come fanno a finire i miei menti E' un tre contro uno Ma fatta benissimo Ok Amore io vado più facile De te Booty Vabbè facilissima Big big booty Big booty Iggy E aspetta C'hai lo? Vado io Dai questa è facilissima Musica Facilissima Io pure sono oltre in mila Arriva perché io non sento musica italiana Ma è C'ho andato music Na 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 Io ho andato music Mi Ho pure pensato Io ho pure pensato a music Na 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 Yeah 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 Io pure ho pensato a music di madonna Music C'è stato un botto Sono stata bravissima Guarda Dimmi niente Finestra Cacchio 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 Guarda fuori dalla mia finestra Vedo la mia maestra Ma che sei? Oddio io sono nel francese Non mi viene Window You put the window on the car Ma Cacchio All the windows And broken And broken Non mi viene Non mi viene Annalisa Non mi viene Non mi viene Non so le parole Di quella di Annalisa Manco l'io Capelli Oddio aspetta Ce l'ho un'idea Aspetta Ma perché io le challenge Non ci perdo sempre Sono belli Depths Posso cantare? Yeah Touch me Touch me Baby But don't mess up my hair No 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 You can brush my hair Undress me everywhere Ma dai quella di Gaga è bellissima No ma padre No ma padre Let's go buddy Che tu sei il team biancé No lei è il team biancé Queenie è con te Cristina Ah tu ti vedo Queste sono le basi del puttun pop Mortacci potete girare il puttun pop Te ne faccio una facilissima Che c'è veramente puoi Sicuramente no Non ti ricordo Così come si dice Cremisce il mondo di queste canzioni Pullula Pullula Poi guarda di Zianoferro questa artura Uno Ce ne stanno tanti Ma c'è One love One heart Let's get together Prima di tutto devi cantare One love day blue C'è no voglio che la canta Corpo Ma che è? Oh quella di Maria Carey Ah Un minuto di silenzio numero Hola wanna you Is by your body Oh 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 to play my song and now it's gonna be ok oddio sta cuore it's a party in the USA facilissima si le due facilissime e allora le due musica rosa una rosa hai visto stai pensando io pensavo tipo pink o a che canzone con io pure ho pensato subito però le canzoni di pink in cui c'è pink non c'è sta ok l'ultima per lo spareggio è facilissima foto dai amorce così devi foto ricordo e non sai che ti perdo no i giovani diversi i giovani diversi my heart ok e niente questo era il video io spero veramente che ti sia piaciuto fatici sapere gli avventori i commenti esatto perché abbiamo perso il conto non sapevamo che cazzo ha vinto abbiamo perso tutte le altre scelte perché ci stavano mille altre canzoni esatto però l'abbiamo fatto principalmente per divertirci se siamo tagliati la cifra io vi lascio ovviamente il suo canale come ho già detto o qui o co in the info voice o in the facebook ovviamente vi lascio il link di tutti quanti le di tutti quanti persone qui sta a casa tutti quanti persone non sicuramente scusa ma fai allora praticamente cosa facciamo voi cosa fate? scrivete nei commenti quali sono le canzoni che vi viene in mente nel momento in cui dicevamo le parole ci ho capito sfigato bene quindi io direi di mettere un pollice in su per la mia tosse di sottofondo e per questi due bellissimi ragazzi qui sicuramente passeremo da tutti i canali aiuto al pubblico esatto aiuto al pubblico che sono un bacione anche a Giorgia un complimento anche a Giorgia un complimento anche a Giorgia un complimento anche a Giorgia che oggi ha superato i suoi esami di maturità finalmente non è più una licearia andava a sfacularsi non sappiamo neanche noi dove un complimento a me su tutti i video che abbiamo giurato oggi insieme e mi raccomando di guardare ci vediamo nel prossimo video ciao